ancora una perla di questo lungo pomeriggio seppur bagnato ma fortunato gran premio galà internazionale del trotto Turilli trofeo Leomento Folli, McGraise, il cavallo più gettonato e non si poteva discutere. Completamento è la piegata, l'allineamento va a completarsi. Ancora un buon allineamento, prende velocità la macchina. Chiusura, dal centro, McGraise come da copione con Obama a largo, Linda di dentro e Napoleon Barr. Si va in piegata, allunga McGraise. L'errore di Linda di Casei e Obama parcheggia senza grattino. Completamento è la piegata, tredici e otto il lancio e così ora amministra il vantaggio. Nelle prime posizioni Laica e K, poi il dodici di Orleans Font. Si va di fronte, tira subito i remi in barca, il leader, quattrocento, se ne vanno in ventinove e mezzo. La Linda ha spezzato il freno, perciò ha sbagliato, e McGraise ha comandare the operation. E ora andatura da caccia, proprio impressa dal remi da Andreghetti. Addirittura a quarantasei e mezzo i seicento. McGraise, Obama, Napoleone un po' insofferente, poi il Laica e K, con a largo o i bambai F e poi l'Uni Tunis. Mezzo miglio, nell'ordine dell'1-2 qualche spicciolo, e il Napoleon Bar va a diretto contatto con McGraise. Si fa e si rende così una fila doppia dopo il primo chilometro, chiuso nell'ordine del 16 e 3. I cavalli affrontano la penultima curva. Tutti accettano il re Mida e il re McGraise, almeno per il momento. Mezzo miglio alla conclusione, 15 e 2 ancora in piegata, tutto tranquillo, calma piatta, ma ora il Napoleon Bar inizia a pedalare e McGraise allunga. Frazione di fronte redditizia in 14 e 2. Si fa notare l'Uni Tunis e l'Uni Tunis va via in terza ruota. Trova un po' traffico l'allievo del Di Lorenzo. Curva a finale, chiusura del miglio, nell'ordine del 2-2 e ora McGraise pedala, allunga e ne prende due. Tutto tranquillo, tutto tranquillo e che tranquillità! Se ne va a McGraise e dopo il Gran Premio Lotterio, il Palio dei Comuni, Cesena, di tutto di più, McGraise, una promenade de santé, secondo un ottimo Napoleon Bar e terzo un ottimo Oibambeffe. uno 14,8 in riferimento cronometrico, nulla dovevamo vedere e nulla abbiamo visto. Per il momento McGraise, che per me esce dal libro cuore, per me il Bancomat per eccellenza, ha fatto un cost to cost nel più facile e disarmante dei modi. Decisamente una promenade de santé per questo figlio di Cicciachiti. I colori, lo sappiamo, della DuPont, l'allevamento Moscati ancora in prima linea, ma soprattutto la connessione Colletti-Andreghetti. E scusate se è poco, fa pure rima al totalizzatore, 1,45. Corre alla grande Napoleon Bar, che doveva essere servito un'altra corsa per venire avanti. E questa sera, l'abbiamo visto, con un'altra corsa vedremo ancora un altro Napoleon. Mentre per il terzo, una commovente e straordinaria Oibambeffe. McGraise, su tutti, più di tutti, facile. Linea alla regia.